Un saluto a tutti cari amici e amanti del mistero. Adesso voglio parlare di uno dei tanti misteri di epoca remota, di epoca arcaica. Si ritorna a parlare del mito di Atlantide, questa volta vorrei specificare sulle creature che abitavano quest'isola scombarsa nell'oceano atlantico. Se fai disegnare ad un bambino Atlantide, lui ti disegnerà una città sommersa, stile greco-romano, con delle sirene e uomini pesce. Si pensa per antonomasia che ad Atlantide ci abitavano gli uomini pesce e le sirene, gli hoannes della mitologia della Mesopotamia, dei babilonesi. Poi, che io sappia, il re di Atlantide era il primogenito di dieci figli di Poseidone, che si chiamava proprio Atlante, e viveva in un castello al centro della città delle Porte d'Ore, Cerne. Poi, qualcuno se ne esce che c'è stata una regina ad Atlantide che si chiamava Chiteia, che era una sorta di rettiliana. Si pensa che ad Atlantide ci abitavano pure i rettiliani, queste creature umanoidi dalle sembianze di rettile, con la pelle squamosa, che potevano vivere anche nelle profondità oceaniche, tipo degli anfibi. Forse lega qualcosa con gli uomini pesce di Ioannes. È stata intervistata una signora al canale Mistero su Italia 1, che lei diceva di tenersi in contatto con una creatura atlantidea, e che era metà pesce e metà umana, dalla testa all'ombelico era di un pesce e le gambe erano quelle di un essere umano, il contrario di come noi siamo abituati a credere agli Atlantidei o le sirene. Anche Elena Petromola Blamaschi parlava di creature anfibie, creature rettili, da sembianze umanoidi, che vivevano in tempi antichi, prima della creazione dell'essere umano sul pianeta Terra. Poi ci sono anche altre creature ad Atlantidei, come ad esempio il famoso Leviatano biblico, quel gigantesco serpente tortuoso che abita nelle profondità oceaniche. Si pensa che la stessa Chiteia, chi è che si è informato su Chiteia, si trasformava in Leviatano, che il Leviatano era la sua forma naturale, Chiteia era la sua forma umana. Questa è, secondo la teoria, di una persona che mi ha condattato su internet. Una creatura autoctona di Atlantide è il Perito, che pochi conoscono. È una sorta di uccello dal piumaggio verde e blu, con le sembianze in parte di un uccello e in parte di un cervo. La testa e i palchi di un cervo e il corpo interamente di un uccello. La testa e i palchi di un cervo e il corpo di un grosso uccello. E la sua ombra era quella di un essere umano. E si pensa che era ostile contro gli esseri umani. Che io sappia, da quello che ho studiato nei dialoghi tra Temeo e Crizia, si sa che il re era il primo genito di Poseidone e di una ninfa dei mari. La ninfa dei mari non ricordo come si chiamava, ma mi ricordo il primo genito, che era Atlante, re di Atlantide. Da non confondere con il titano Atlante che sorreggeva il cielo, per evitare che gli abitanti del pianeta Terra vengono schiacciati dal cielo. Allora, che io sappia, nei dialoghi tra Temeo e Crizia, c'era scritto che la capitale di Atlantide era fatta a cerchi. Alcuni di acqua, di mare, altri di terra. Molto profondi per l'essere umano, dato che a quell'epoca gli esseri umani non avevano ancora creato le imbarcazioni, ma gli abitanti di Atlantide, c'è scritto proprio nei dialoghi tra Temeo e Crizia, gli atlantidei avevano già creato i sommergibili. I sottomarini, o mezzi di trasporto che andavano all'interno dei mari, così come è scritto nei dialoghi tra Temeo e Crizia di Platone, questi sottomarini esistevano già da prima che gli esseri umani creassero le imbarcazioni. Furono gli atlantidei a creare i sommergibili. Poi si pensa che sempre ad Atlantide ci abitavano i mitici grifoni e i leggendari unicorni ed anche i giganti. Si pensa che ad Atlantide le persone erano molto... gli abitanti di Atlantide erano ultracentenari e che ci abitavano anche i giganti. Una cosa non avevo detto prima che ad Atlantide ci abitavano pure degli elefanti, forse degli elefanti nani o forse erano giganti le persone che ci abitavano. Questo non potrei dirlo. Comunque ci abitavano i giganti ad Atlantide. Questo è tutto quello che so secondo le creature che ci abitavano ad Atlantide. Forse ci abitava anche il mitico rock, un gigantesco uccello dal piumaggio candido che poteva afferrare pure un elefante con i suoi potenti artigli. Per alcuni questo rock, come il perito, erano degli aerei. Si pensa che gli aerei sono stati creati ad Atlantide. Anche se a me piace pensare il rock come un gigantesco uccello dal piumaggio bianco. Sicuramente ad Atlantide ci abitavano anche i draghi. I draghi che hanno convissuto con gli elefanti. Il leviatano stesso è un drago marino. Bene amici, questi sono tutti gli abitanti, le creature che abitavano ad Atlantide. Credo che si abitavano anche degli alberi ultrasecolari. L'albero delle anatre, le occhie vegetali, le anatre vegetali. Metà animali e per metà vegetali. Bene amici, questo è tutto. Un abbraccio immenso dal gran mitico. Alla prossima. Alla prossima. Grazie a tutti.